Muore a New York la famosa filosofa e politologa Anna Arendt, tedesca di nascita ma naturalizzata americana nel 1937 quando la Germania gli revoca la cittadinanza. Famosa per i suoi studi sul totalitarismo, la sua opera principale è Vita attiva, raggiunge però una fama mondiale soprattutto per i resoconti che lei fa per il New Yorker del processo al boia nazista Ackman, resoconti che poi verranno raccolti in un libro famosissimo e vendutissimo dal nome La banalità del male.